signori siamo arrivati da poche ore a 30.000 iscritti quindi tanta tanta roba sono molto felice ma molto spaventato allo stesso tempo perché ora signore mi tocca girare adesso voi vedete una parte di quello che c'è tutto due file eccetera eccetera mi tocca girare il super video collezione manga però dall'altro lato sono anche felice perché volevo farlo volevo portarlo ma questo sapete già nulla video che vi faccio principalmente per ringraziarvi per dirvi che mi servirà ovviamente qualche giorno per girarlo per un soprattutto per montarlo perché un lavoro che mi porta via un sacco di tempo a montare i video e poi ve lo metto indicativamente vi direi intorno al 15 gennaio su una decina di giorni per girarlo tutto e poi montarlo quindi ve lo dirò sicuramente precedentemente con l'argo anticipo su instagram ricordiamo che chi non è iscritto a instagram vada a iscriversi a instagram perché ci sono sempre notizie news eccetera magari anche cose che non vedete mai sul canale ma metto solo su instagram e ci siamo veramente quindi non vi lascerò senza video ovviamente in questo periodo in cui io girerò questo capolavoro spero metterò sicuramente almeno tre video due e mezzo tra l'altro sono già pronti due parlano di manga e ci introduciamo pesantemente alla video collezione quindi so che vi piaceranno spero che vi piaceranno uno sarà sulle carte pokemon e con queste tre video poi arriviamo al video collezione a volevo anche chiedervi una cosa indicativamente ho già in mente un'idea su come girarlo come montarlo quanto parlare per ogni volume perché se parlo in maniera profonda di tutti i volumi ragazzi viene un video una serie di video infinita quindi qualche idea ce l'ho già però mi piacerebbe sentire delle opinioni dei pareri dei consigli che visto che comincerò a montarlo tra qualche giorno indicativamente tra tre giorni comincerò a farlo in questi tre giorni se avete dei consigli ditemeli pure io li leggo mi fa un piacere e magari prendo spunto per fare un video ancora migliore niente di nuovo grazie a tutti e ci si vede la video collezione prima metterò quei tre video che sono già pronti promesso e poi video collezione iscriviti al canale alla prossima iscriviti alla pagina facebook perfetto